8 agosto, eccezionale riservio di divisione e spirito di sacrificio. Tokyo, 8 agosto 2021. La circostanza, i dipendenti avevano l'intuizione di ampliare le ricerche rispetto alle coordinate loro fornite, così riuscendo ad individuare i due naufraghi, oramai allo stremo delle forze, dopo circa 24 ore trascorse nelle acque marine. Chiaro esempio di abnegazione e spirito di iniziativa. Ischia, 14 luglio 2017. Tutto ciò non è stato facile. Ben 34.000 poliziotti hanno contratto il virus e 20 di noi hanno perso la vita. Colleghi che non dimenticheremo mai il testimone. Sono tempi difficili, perché la pandemia non ci ha ancora lasciato. Il suo mondo è un consorso giurato per tutte le altre. Ma è qui il problema. Il motivo della rivela chiamata è qui. Ovviamente istituzionale, abbiamo cercato di stare vicino a chi ha bisogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.